Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Veronesi Protagonisti. Questa sera in studio con noi Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona e non solo. Presidente, benvenuto. Grazie anche a voi. Il 2018 è stato un anno speciale per lei perché lo abbiamo ricordato, l'8 maggio è arrivato l'incarico di presidente Coldiretti Verona, il 25 luglio Coldiretti presidente Veneto e il primo di novembre addirittura l'incarico in giunta nazionale. Innanzitutto una sua riflessione su questo percorso di ascesa e verrà da tanto che il Veneto non aveva una rappresentanza in Consiglio nazionale. Sì, direi che al di là della mia figura penso che sia una grande rappresentanza per quanto riguarda tutto il mondo di Verona e del Veneto perché vuol dire che il nostro peso in agricoltura è importante, vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro e penso che lo faremo anche in futuro. La sua nomina è stata chiacchierata, diciamo così, perché lei è un imprenditore prima di tutto, quindi al vertice di un'associazione di categoria di agricoltori e non solo allevatori, un imprenditore. È una novità? È una novità perché penso che sia il vero cambio di svolta della Coldiretti perché dobbiamo essere imprenditori di noi stessi, non si può produrre fine a se stessi ma bisogna anche essere in grado di produrre e trasformare il proprio prodotto e offrirlo a un consumatore sempre più attento, sempre più veramente attento alla qualità, alla certificazione e quale migliore imprenditoria non è l'agricoltore che sa come fa il proprio prodotto, sa come l'ha coltivato, sa come ha cresciuto le proprie piante e quindi deve essere anche garante. Quindi noi alla fine ci mettiamo la faccia per essere garanti nei confronti del consumatore del prodotto finito che si va a proporre. Quindi la necessità giustamente di strutturare anche l'attività agricola e di allevamento con una logica imprenditoriale a 360 gradi, no? Sì, direi di sì perché non possiamo vivere esclusivamente di essere allevatori di carne ma non seguire la filiera italiana al 100% oppure produrre latte e non seguire la trasformazione del formaggio. Questo è un po' come è capitato con me con Redoro, loro hanno detto beh Daniele è un bravissimo produttore ma è in grado di trasformare il proprio prodotto e lo sa anche vendere e questo penso che sia il modo per emulare a tanti giovani che sono in agricoltura e che devono essere imprenditori della propria azienda e quindi questo penso che sia l'auspicio per molti miei colleghi. La forza giovane si è sentita in questi anni in col diretti, tantissimi ragazzi si sono messi in gioco e anche tantissime ragazze perché c'è un altissima percentuale di imprenditrici donna. Assolutamente sì, la mia vicepresidente è donna ma tra l'altro è anche una bravissima frutticoltrice e quindi questo penso che sia il modo migliore per dare spazio a una scelta sempre più attenta che è quello del mondo delle donne perché veramente hanno una marcia in più nell'attenzione, nell'eleganza, nel saper presentare bene anche un prodotto e noi lo vediamo anche nei mercatini a chilometro zero, dietro al banco c'è sempre chi la figlia, chi la mamma e sempre con un occhio sempre di riguardo. Quali sono i temi caldi che ovviamente vengono presentati all'ordine del giorno di un consiglio direttivo medio diciamo? Le problematiche sono tante, noi sappiamo che la cimice asiatica ci ha creato non pochi problemi, ha devastato quello che era il mondo della cera l'esicoltura, la frutticoltura è una cimice asiatica intelligente quindi si nasconde dietro ai frutti e poi va a guastare un raccolto veramente anche quando il prodotto è in cella, quindi abbiamo visto che questo è un danno grave che ci ha creato paesi non controllati come la Cina e che vengono qui, aprono i container, escono questi infestanti che non vanno bene e noi abbiamo un paese così importante che deve essere protetto, quindi come tale noi agricoltori ne abbiamo percepito un danno e chiederemo anche un risarcimento penso a chi di dovere perché questo non è possibile che il frutto del lavoro di tanti agricoltori possa veramente essere rovinato da un piccolo insetto che è una stupida cimice asiatica, penso che abbiamo una dignità e come tale va salvaguardata. Lotta aperta anche all'Italian Sounding, alla contraffazione dei prodotti? Assolutamente sì perché se noi facciamo bene il nostro lavoro, lo facciamo in maniera originale, sana, integra, rispettando tutte le regole del caso, vogliamo essere sostenibili quindi il nostro ambiente, il nostro territorio, lo teniamo perfettamente integro, non possiamo essere alla merced di chi invece inquina, crea problematiche del territorio, sfrutta la mano d'opera e poi magari entra sul mercato con un prezzo competitivo e la gente non sa perché. Ecco quindi l'italianità è fondamentale, la veronesità maggior di più perché bisogna che ognuno di noi produca e consumi i prodotti del proprio territorio. Ha ricordato anche la veronesità, il territorio veronese e veneto che in questi ultimi mesi è stato messo a dura prova dal maltempo, si contano i danni e sono tanti? Sì, da buoni veronesi e veneti cerchiamo sempre di dire, farsi sulle maniche come si dice e non è successo nulla, invece i danni ci sono stati e anche molto gravi, ma potevano essere molti di più per il fatto che l'agricoltura ha salvato veramente il salvabile, avevamo dei terreni veramente pronti a ricevere tutta questa acqua, dei fossati puliti in ordine da grazia anche ai nostri agricoltori e quindi nessuna città è insondata e anzi Verona ha fatto veramente da padrone. Se avessimo avuto delle condizioni anche in agricoltura di trascuratezza come in altri posti potremmo veramente aver avuto dei danni molto seri alle persone e anche al territorio, quindi grazie veramente agli agricoltori del fondo valle che sono riusciti a ricevere tutta quest'acqua anche delle montagne. Purtroppo l'alta montagna ha avuto questo grave scompenso sia forestale che anche di esondazione, ma vediamo di dargli una mano e quindi forza Belluno, forza Ziago e noi siamo una grande squadra perché l'agricoltura è fatta di una grande famiglia e quegli retti penso che rappresenti questo grande mondo. Chiudiamo Presidente con una riflessione, uno sguardo al futuro. L'Unione Europea destina se non sbaglio quasi due terzi dei fondi alla disposizione, fondi comunitari proprio al settore agricolo, è un settore che in ottica appunto futuro avrà un'importanza sempre maggiore. Chissà come mai, voi pensate a cos'è la spesa per la sanità pubblica, quindi penso che l'idea di far mangiare bene e sano la nostra popolazione penso che a qualcuno abbia scattato quel campanello d'allarme, quindi il fatto di poter contare sull'agricoltura per far star bene le persone penso che sia uno dei fattori importanti che anche Comunità Europea sta valutando e come vedete sta aiutando, quindi non sono soldi buttati ma anzi ben investiti. Direi che siamo il paese, l'Italia in questo caso è il paese che ha il più alto numero di denominazioni di origini protette, è quello più sicuro, è quello più controllato, è quello più sostenibile. Questi quattro punti fanno del prodotto italiano e a maggior ragione del prodotto veneto e veronese l'eccellenza nell'alimentazione, quindi mangiamo italiano e mangiamo sano. Ringraziamo quindi Daniele Salvagno, presidente col diretti Verona, Veneto e consigliere nazionale e in bocca al lupo per il 2019 che sarà un anno sicuramente impegnativo ma di grandi soddisfazioni. E buona alimentazione a tutti. Grazie.